I concetti sono quelli che hanno scatenato la reazione durissima di Grillo sul suo blog. Concetti che ora Luisa Alberto Orejana, per Grillo il senatore 5 stelle, tendenza scilipoti, conferma su Facebook dopo averli esposti martedì scorso in assemblea in faccia ai suoi colleghi. Per attuare il nostro bellissimo programma di 20 punti la mia proposta è di essere pronti ad un dialogo con le altre forze politiche, considerando che l'eventuale rottura tra PD e PDL aprirebbe uno scenario di crisi di governo dove i nostri voti al senato potrebbero essere decisivi, dando al Movimento 5 Stelle un grande potere contrattuale nelle consultazioni, scrive su internet Orejana senatore 5 stelle, con un certo seguito tra i parlamentari grillini che ad inizio legislatura lo avevano candidato alla presidenza del senato. Nessun passo indietro insomma del senatore finito nel mirino, che anzi rilancia in aperto contrasto con la linea dettata da Grillo e Casaleggio. Io sono un attivista che temporaneamente fa il portavoce, voglio sentire la nostra voce prima di muovermi. Abbiamo preso il 25% dei voti, ho il bisogno di sapere qual è il volere di questo 25%, la provocazione ancora di Orejana evidentemente non convinto dalle risposte di Grillo. Fermo sulla posizione assunta il giorno dopo il voto, no a forme di collaborazione politica, si ad accordi sul singolo provvedimento. Se gli altri partiti di qualsiasi colore propongono una riforma, quella elettorale per esempio, che piace ai 5 Stelle, nessun ostacolo a votarla, cosa diversa, governare con qualcun altro. Non metterci insieme con chi governa con Berlusconi, con chi è favorevole alla TAV, Valmouos, la risposta già data ad Orejana dai capigruppo al Parlamento, Nuti e Morra. Quest'ultimo, che aveva invitato il collega a lasciare il movimento pochi minuti fa, corregge la sua posizione lasciando aperto uno spiraglio. L'espulsione, prima voglio parlargli, dice Morra. Rimane il rischio di una spaccatura interna. Orejana non è l'unico a pensarla in quel modo. Secondo molti quotidiani, all'eventuale abbandono guardano con attenzione PD ma anche PDL. I numeri dicono che dopo la nomina dei nuovi quattro senatori a vita, per creare una maggioranza alternativa a quella delle larghe intese al Senato, basterebbero meno di dieci voti. Per evitare le elezioni, il Premier Letta avrebbe pensato di rivolgersi ai cosiddetti volenterosi del PDL, ma sempre Repubblica, riferisce anche di altri movimenti. Il PDL si starebbe preoccupando proprio della tenuta del gruppo Grillino e per questo sarebbe stato contattato il professor Becchi, ideologo del movimento. Becchi, ideologo del movimento.